Salve a tutti, sono felice di essere qui perché oggi posso raccontarvi una storia per dimostrarvi una cosa che a me è molto a cuore. Per me tutti i giovani dovrebbero sapere cosa significa imprenditorialità e per me tutti i giovani devono fare propria questa parola qui perché è una parola importantissima. Inizio con raccontarvi un po' la mia storia così capiremo insieme il perché di questo pensiero. Io ho avuto la mia prima esperienza imprenditoriale di team management se così lo possiamo chiamare quando avevo sette anni. Andavo a scuola e non mi piaceva studiare. Quindi decisi di tornare a casa e convincere le mie nonne e le mie zie a partecipare a questa organizzazione che volevo mettere su che svolgeva i compiti per casa per me. Sostanzialmente io tornavo da scuola, avevo già tutto organizzato, andavo nella mia organizzazione dicevo guardate qua ci sono i compiti per favore li svolgete entro pomeriggio è chiaro però vi prego di inserire degli errori perché i professori o i maestri allora ero alla scuola elementare potrebbero accorgersi che c'è qualcosa che non va. E fu così che per qualche mese andò avanti poi mia madre mi scoprì e disse cosa stai facendo e disse ok scusami andò avanti provai a studiare ma non era il mio forte o comunque non mi piaceva arrivato alle superiori decisi di andare allo scientifico per seguire i miei compagni perché io volevo stare con loro avevo la mia comfort zone come si suol dire. Arrivo alle superiori al liceo scientifico il secondo anno mi faccio bocciare, mi faccio bocciare perché non mi piaceva l'ambiente, troppo serio. Allora mi trasferisco all'industriale dove inizio a studiare informatica e lì capì che probabilmente poteva essere la mia strada, probabilmente attenzione perché poi capiremo il perché. Studio informatica, mi piace, faccio anche qualcosa al di fuori del programma. Inizio a programmare Android. Allora erano appena uscite le piattaforme Android e quindi inizio a programmare Android, feci qualche piccola applicazione e incominciai a totalizzare un po' di download sino al punto che le mie app in un mese circa totalizzarono circa 50.000 download. App di un altissimo livello di stupidità tra l'altro. Quello che facevo io ogni giorno era stare davanti il Play Store e capire quale poteva essere la necessità che in quel momento gli utenti potevano avere. E uscirono diverse app. La più importante probabilmente si chiamava YouTube Downloader perché mi accorsi che c'era questa necessità. Già dal nome si capisce cosa fa l'applicazione. Allora pubblico YouTube Downloader negli store e in due settimane totalizza un milione e mezzo di scaricamenti. Io a 19 anni avevo creato l'app più scaricata al mondo. Partecipo a un contest internazionale di una grande multinazionale e vinco nelle ultime due settimane di questo contest 100.000 dollari. Non vi lascio immaginare la mia felicità a 19 anni essere il primo al mondo guadagnare tanti soldi al giorno ed in più vincere un premio di una grossissima multinazionale di 100.000 dollari per me fu il massimo. Per me e per i giornali che incominciarono a parlare molto di questo. I media nazionali ed internazionali parlavano tanto di YouTube Downloader e di questo genio del web, il genio delle app. Io vengo da un paesino di 7.000 abitanti che si chiama Valguernera Caropepe della Sicilia e mi nominarono come lo Steve Jobs di Carrapipi perché è così che si chiama il paese. Non vi lascio immaginare i miei amici, gli spotto che partivano. Però per me fu veramente il massimo perché tutti volevano sapere di me. Dalle otto di mattina alle dieci di sera incessantemente il telefono squillava a casa. Rispondeva mia madre, rispondevo io. Facevo tante interviste, radio, televisioni. Ad un certo punto però qualcosa inizia ad andare storto. Dei blog iniziarono a sollevare dei dubbi riguardo la legalità di questa applicazione. Ma scusa, tu puoi scaricare da YouTube? Ma forse sì o forse no. E allora lì incominciai ad avere paura. Perché forse l'imprudenza, no? L'essere troppo piccoli mi avevano portato a non riflettere tanto. Da dei blog si passò a dei grandi giornali, delle radio e delle televisioni. La paura cresceva, io ero disperato. Accade che un giorno, io guadagnavo tramite i banner inseriti nelle applicazioni gratuite, questi guadagni erano elevatissimi ed un giorno mi tagliano tutti i guadagni. per farvi capire, con quei guadagni avrei potuto acquistare una macchina di medio livello, li avevo guadagnati in una settimana e in una settimana me li hanno tagliati via. Io ero disperatissimo, non sapevo cosa fare. La prima cosa che pensai è basta, sono stufo, non ne voglio sapere più. Ho paura, voglio cessare di essere così impaurito. Tolgo l'app. E fu così. Vado dai miei e dico, mamma, papà, guardate, io ho paura. Non ce la faccio più. Voglio togliere l'applicazione dal web, dagli store. I miei genitori mi dissero, guarda, se tu sei felice così, fallo. E fu la seconda volta che fui molto imprudente. Io con i miei genitori. Molto imprudente perché da lì si iniziò a parlare molto di più della vicenda ed in maniera molto negativa. Quindi immaginate io e la mia storia che partiamo da qui. Dominavamo il mondo. E dopo due settimane dominavamo l'inferno, se così si può dire. Io non sapevo più cosa fare. Non studiavo più perché poi mi iscrissi all'università. O meglio, ne volevo la scusa per non studiare più. E non volevo saperne più dei miei amici perché avevo paura che i miei amici potessero chiedermi della vicenda. Le uniche persone che frequentavo erano i miei genitori e la mia ragazza, che erano le uniche persone che potevano dirmi guarda, se non hai fame bevi la camomilla. Almeno metti qualcosa nello stomaco. Da lì a un certo punto arriva una notizia ancora più brutta. Mi scrive questa multinazionale e mi dice complimenti, hai vinto il premio. Dacci le tue coordinate bancarie che ti inviamo ai 100 mila dollari. Io ero estasiato. Per me si era totalmente cancellata la paura. Peccato però che dopo due minuti arriva un'altra email che dice ignora tutto quello che ti abbiamo detto. Distrutto di nuovo. Allora lì capì che il sogno era svanito perché dopo qualche settimana mi arriva una mail finale che mi diceva guarda, ci dispiace ma non possiamo darti il premio perché l'app effettivamente va contro i termini della piattaforma YouTube. Da lì inizio è un percorso veramente difficile. A soli 19 anni non è molto facile affrontare storie di questo tipo e vi posso assicurare che poi per un anno la mia vita è stata abbastanza tremenda. Io non usavo più i cellulari, figuratevi, non aprivo il computer, il laptop, non riuscivo ad aprirlo. Avevo paura di entrare e navigare su Google e trovare il mio nome, trovare qualcuno che parlasse della mia storia. Ad un certo punto mia sorella, che tra l'altro fa la psicologa, è meno male, decide di chiudermi in una stanza, portare un malloppo così di fogli, che erano articoli che parlavano di me, tutti sottolineati, mi dice guarda, tu leggili tutti, non esci da qui se prima non hai finito. Io non ne voglio sapere, guarda, lasciamo perdere, no, tu devi leggerli. Mi costrinse, mi costrinse perché lì capì per la prima volta che gli articoli non parlavano male di me personalmente come persona, come giovane, come 19 anni che aveva creato qualcosa di incredibile, ma parlavano male di un po' tutta la situazione, di quando fosse stato strano tutto questo. E allora lì basta, visi un punto. Incominciai a capire che dovevo imparare, continuare ad imparare. Decisi di frequentare ambienti come incubatori, come acceleratori, dove lì potevo imparare, perché era solo questo che io volevo. Conoscevo start-up, conoscevo ragazzi, imprenditori, giovani. Mi raccontavano le loro storie. Mi imbarazzavo. Ogni volta che mi imbarazzavo, lì capivo che stavo imparando. Dopo due anni di imbarazzo totale, arriva una piccola vocazione. Volevo portare quello che avevo imparato, e la mia esperienza di totale fallimento, nella mia scuola, dove io ero cresciuta e dove io avevo imparato a programmare. Allora organizzo questo evento, una o due giornate. Il primo giorno i ragazzi dovevano capire cosa significava idea, start-up e pitch, una banale presentazione da presentare agli investitori per prendere del denaro. E il giorno dopo dovevano cimentarsi in una competizione per esprimere se stessi. Cosa vuol dire questo? Che i ragazzi dovevano tirar fuori un'idea, mettere su un team e lavorare alla presentazione da presentare a dei giudici per vincere un premio. Doveva essere un solo evento, peccato però, o forse per fortuna, che l'evento ebbe un successo incredibile in Italia, perché fu considerato il primo esperimento di educazione all'imprenditorialità giovanile mai avvenuto in Italia. Fui chiamato da Repubblica ad un evento per parlare di questa storia e fui nominato uno dei venti giovani innovatori italiani. Allora li capì che probabilmente l'impatto che creava questa cosa che si chiama Startup Super School doveva essere portato avanti, doveva essere coltivato. Mi organizzai, con obbi delle persone, feci un team e nel febbraio del 2016 lanciammo Startup Super School con l'ufficialmente. In un anno abbiamo coinvolto più di 2000 alunni dai 16 ai 25 anni, quindi scuole e università. Siamo riusciti a stringere delle sinergie con il Ministero dell'Istruzione, con la Commissione Europea e con le Nazioni Unite. E adesso per di più stiamo anche andando all'estero. Stiamo andando in Croazia, stiamo andando in Africa, in Messico. Ma la cosa che mi piace di più quando racconto di questa storia, quando racconto di Startup Super School, è quello che ci sta dentro. Noi andiamo nelle scuole e insegniamo ai ragazzi ad essere non degli imprenditori. Noi non vogliamo il ragazzino di 16 anni a capo di un'impresa. Noi vogliamo che pensi come un imprenditore, che è ben diverso. Noi vogliamo che faccia sua la parola responsabilità. Noi vogliamo che si imbarazzi davanti a chi può insegnare qualcosa. Io penso che la cultura dell'imprenditorialità oggi sia una delle chiavi più importanti, soprattutto tra i giovani, perché possano riuscire a capire che il fallimento e il doversi imbarazzare davanti a chi ha fatto tanto e chi si è imbarazzato tanto e continua ad imbarazzarsi, sia tutto. Grazie.